Presidente Socanone Parra, volete rivelare lo chiedo lo stesso, c'è qualcuno che si è preso la prega di fare un sondaggio il mese scorso sul suo gradimento tra i veneziani in caso di una sua candidatura al sindaco? Il 30% ha detto sicuramente sì, il 30% sicuramente no, poi c'è un 25% probabilmente sì, come lo giudica come sondaggio? Che manca un 25%? Sono quelli decisi. Ma no, guardi, l'ho letto anch'io sui giornali, quindi non ho niente da aggiungere, sono concentrato sulla regione, su finire questo mandato, mancano ancora un paio d'anni, forse anche qualcosa di più, quindi mi fermo lì, nel senso che non ho altro da aggiungere. Poi fra due anni, guardate due anni, due anni e mezzo, quello che sarà sarà un'era glaciale nuova, quindi stiamo sempre facendo discorsi rispetto ai dinosauri che c'erano e ci saranno.